Campionati della cucina italiana organizzati da FIC nell'ambito di Biarac Traction a Rimini Fiere. Sebi Sorbello, che per la FIC si occupa di FIC e Promotion, ci racconta come è vissuta, qual è l'importanza di questo momento aggregativo che si svolge una volta all'anno, vero? Sì, i nostri campionati si svolgono una volta all'anno dove tantissimi concorrenti arrivano da tutta Italia per battersi e imbattersi in queste gare. E soprattutto un momento di aggregazione, un momento di condivisione, un momento di crescita professionale, perché anche guardare cosa fa l'altro per noi è un momento importante per capire dove sta andando il mondo della cucina. Il momento importante è anche perché attraverso i nostri partner creiamo questa sinergia che atta a una crescita professionale, perché non ci scordiamo mai che i partner FIC, che sono delle grandissime eccellenze, fanno ricerca e sviluppo, che portano anche qua sul palco e a disposizione delle centinaia di concorrenti che ogni giorno affollano i nostri campionati. Successo straordinario, oltre le attese, perché arrivare da tutta Italia, il sold out è arrivato già tre settimane prima dei campionati, ci danno a pensare che l'espansione deve essere ancora in più e importante.